Ora da Tripiti direzione Mandracchia, andiamo a farci un bagno perché c'è un caldo Il caldo è delagerato, giriamo su questo piazzale, se ne va l'aria a girare Questa è la strada migliore che posso fare, vero? Andiamo avanti, andiamo a placca Andiamo avanti, andiamo a... Tessito e placa Anzi, forse più veloce Facciamo un altro nuovo pezzo in più che non ne ho ancora fatto Lancia il teatro e lasciamo stare qui Qua a sinistra ancora 300-400 metri, anche 500, ci sono le catacombe Non ci spenderei del tempo Qua è il parcheggio dell'altra sera? Per placa? Allora sì Sì, sì, il parcheggio dell'altra sera Sì, sì, il parcheggio dell'altra sera C'è ragione Qua è il parcheggio di placa quando viene sulla sera pieno di macchine Allora quella chiesetta lì poteva essere Guarda sulla adesso? No, andiamo a farci un bagnetto, poi torniamo su Poi li passiamo di qui e... Bene, se andiamo dritto va bene Vedete, cartina Firopotamos, c'è il mio che ha scritto Firopotamos Sì, lo ha scritto, sì Ah, va bene Adesso è... Un'altra parte Qua è l'altra parte Qua è lì? Ormai siamo atteni su di qua Andiamo su di qua Andrà bene uguale Se rica fino dove siamo, sono cattino Ah, va bene Sì, è un miniatore, ma è abbastanza precisa mi sembra, vedete che l'alice è scaso con l'aligatore. Spero che siano sensi unici queste state qua. Adesso? E secondo te? E non so se te è la mia navigatrice. Siete da qua, già di qua, già di qua, sinistra, destra. Siamo sulla strada rossa ancora. Il meno registrato delle strade che abbiamo fatto è quella strada rossa. Siamo sulla strada rossa, dove c'è da là. Penso che sia la strada rossa. Sì, Platina e Pyropotamos. E lui ci conveniva tutti qua? Sì. E' l'acqua, 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 l'acqua e l'acqua. E' un'altra. Giriamo ancora a terra. Siamo al famoso incrocio di prima? Guardiamo dritti, andiamo a destra noi. Dici che andrà giù di là, Platinia, fino a Quattavo, sino a di qua. Tornerà. Arriviamo da qualche parte. Poi queste macchine tutte che fanno questo è tutto davvero buono. e poi io ho chiuso lo smettetto. Perché è strada rossa ma... No, non c'è mica sulla rossa. Pensate che è il famoso incrocio. Di là vai fino a Potamos. E di qua vai a... andiamoci di là? E' quella che abbiamo fatto prima. Andiamo di qua. Dove siamo tornati su? Guarda dove siamo tornati su prima. Ora siamo tornati su da Filippo Tamos. Da Platani. Dai che Gisga è incapace da Piero. Ma siamo più da passati prima. No, non è che c'era un divieto lì, eh? No? 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 Eh, ma sei arrivato qua con queste c'era il divieto? No, non c'era il divieto. Non sono sicuro. Non so se la mia freccia ci sarebbe stata qui adesso. C'è un bradino, né, Amy? Ah si? Sì. Va beneמri. Ma che cosa mi siano già ragazzi con la rossa? iganpeg pleinet sound of ponegues. E poi ti sento di sì. scusami ma che strade che cazzo di strade su o giù adesso? eh non lo so da dentro vai su è che va solo sull'altra strada la bosseria qui c'è uno che chiediamo torniamo sulla strada rossa ma come fai? e dillo torniamo sulla strada rossa mi fai saperlo tu dove stai andando eh non lo so guarda che c'è uno lì qui c'è una persona ah scusami per andare sulla strada rossa in quella direzione mandracchia ma ok paracalò ok non c'è nessun cartello che dice non puoi salire non c'è nessun cartello che dice non puoi salire non c'è nessun cartello Sono una chiesa a sinistra, sono dei labirinti quei pesi qua Perché la strada sia larga? No però vabbè, la direzione è giusta, andare fuori paese di sicuro Eccolo 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 di qua che siamo fatti stamattina Devo qualcuno di lì, no perché tanto lì è lì Ottimo ragazzi Non eravamo lontani solo che Speravo intorno Eccolo, perché l'anno in questo? E' un po' di qua che è un po' di qua? E' un po' di qua che è un po' di qua? Siamo negli scoli, faremo il bagno negli scoli Ah sì, è anche brutto Era fatto su una cappelletta addirittura quella lì Sì Ma che è Berlino? No? Sì Gisiamo qua a sinistra allora Mi sembra una strada finissima E mi dirà vai su uno sterrato che... Sì, è proprio un pavaggio La parte del parking Ma mi sembra di spiegare il pavaggio di prima della La parte del parking È una pautina giura, è una spiaggia veramente piccola che si può stare C'è giù qualche poche persone. Posso tenere un'altra cosa ma anche. Qui c'è la... Qui c'è la... Parking. Qui ci rendiamo un po' dentro il gradino. Di Dicca. Iniziamo un po' inizia.